Che cosa succede ad un bambino con quoziente intellettivo sopra la norma trattato però da iperattivo? Cittadeibimbi.it in collaborazione con LabTalento dell'Università di Pavia pone la questione alle istituzioni. Sentiamo. Sono estremamente curiosi, hanno bisogno di continui e crescenti stimoli, spesso sono difficili da gestire. Sono i bambini plus dotati in gergo tecnico. Nel linguaggio di tutti i giorni diremmo semplicemente che sono dei piccoli geni. Peccato che quasi nessuno però riconosca i loro talenti liquidando grossolanamente le loro diversità in forme di iperattività se non addirittura di autismo. Succede così che intelligenze estremamente vivaci si spengono forse per sempre. Creare invece una rete che supporti questi piccoli incompresi ma che in primis sappia riconoscere potenziali nascosti l'obiettivo della cittadeibimbi.it che questa mattina in collaborazione con LabTalento il laboratorio italiano di ricerca e sviluppo del potenziale ha chiamato a raccolta il mondo accademico e non solo del capoluogo pugliese. Noi oggi con cittadeibimbi.it il nostro portale di informazione tematica per scuole e famiglie insieme al LabTalento dell'Università di Pavia e con dei partner locali, con Findustria, l'Università di Bari e il Politecnico e l'ASL di Bari vogliamo insieme anche ad Italiana Congressi vogliamo appunto creare una rete una rete che sia di supporto alle famiglie e alle scuole. dei 187 soggetti valutati dai professionisti di LabTalento ben 176 sono risultati essere ad alto potenziale con un quoziente intellettivo medio pari a 137 il primo appello è rivolto alle mamme fidatevi del vostro istinto adesso c'è la possibilità di rivolgersi a chi considera più strade il secondo alle istituzioni scolastiche creare dei percorsi didattici di supporto e costruiti ad hoc su ogni singola intelligenza. Dottoressa, quando un plus dotato viene trattato erroneamente come bambino iperattivo, che rischi corre? Il rischio è che, come dicevo nella presentazione il potenziale che sappiamo non essere statico ma è soggetto a una traiettoria di sviluppo rischi di deprimersi.